10 punti solo in 4 uscite di sabato al Real Catanzaro porta bene il fischio anticipato e così facendo si mette anche alla prova con se stesso, riuscendo nel ribaltone dell'ultimo risultato ad esempio con l'Arizziconese passata in vantaggio con gol di Bello. Al di là di quel catona che dall'inizio si è sempre distinto, possiamo comunque dire che ogni sabato sera in testa al girone B di promozione c'è innanzitutto il Real Catanzaro di Tolomeo. 8 gol segnati, 3 subiti, in casa o fuori cambia poco o meglio cambiava prima dell'ultima prova a Rizziconi. In ottica anticipi si destregge anche il Reggio Sud mentre non sembrano portare bene al Bocale e alla Broca Tanzaro, anche se quest'ultima ieri ha battuto la Tauria Novese.